Shopping natalizio a Berlino in un'unica giornata e con una spesa di trasporto di 60 euro circa. Noi di Travel News 24 lo abbiamo fatto. La nostra redattrice è partita venerdì mattina all'alba da Orio al Serio con Ryanair. Vediamo cosa ha fatto. In un'ora e mezza raggiunge Berlino, acquista il biglietto giornaliero per la metropolitana al costo di 7,20 euro e fa una prima tappa a Primark in Alexanderplatz. La famosa catena di negozi di vestiti di buona qualità e prezzi molto low. Berlino nel periodo natalizio si riempie di luci e mercatini con cucina tipica, quindi ecco il pranzo veloce con currywurst e patate. Nel pomeriggio visita Legostore, un bel giro a piedi per vedere la porta di Brandeburgo, il Parlamento, il Municipio, il Duomo. Dopo aver cenato con piatti tipici tedeschi ad Alexanderplatz si riprende la metro per tornare in aeroporto. L'aerodecolla alle 22.15, atterraggio a Bergamo alle 23.50.